Ah, lustra ti gli occhi con questo quadro del Cavaliere di Xandar. Guarda che chiaroscuri e che colori. È una grandissima fonte di ispirazione per te. Dovresti essermene grato. Lo trovo molto interessante. Eh, certo. Ti andrebbe di posare per me? Musica per le mie orecchie. Ecco, ho finito. Vieni a vedere. Già fatto? Che cosa ne dici? Ma cos'è? Si può sapere che diavoleria è mai questa? È sproporzionato, senza armonia. Questa non è arte. È solamente la tua opinione, amico. Ehi, Ivan. Abbiamo un problema. Che fai? Muoviti! Eccomi io. Attacco io per primo! Sono io il professore! Dicidete in fretta, i rangers stanno arrivando! Sono Game Face e Nightmare! Insieme a una strana lavagna ambulante! Procedi con lo schermo! Agli ordini, professore! Il prossimo! Oh no! Sono nel corpo di Shelby! E io invece sono nel corpo di Tyler! Io sono in corpo di Chase! Sono nel corpo di Coda! Questa non ci voleva! No! Ci siamo scambiati corpi! Benvenuti nella scuola piadora del mondo! Potenziamoci! Acciaio di no! Armatura! Iniziate a tremare! Non so usare l'arma di Shelby! Anche il suoio! Avanti, esci! Trappantricela! Sei del cuore! Che situazione surdale! Consolati! Sarà anche peggio! Non so lanciare bene, accetta! Per te, Game Bovers! Sciacca! Non ci pensare nemmeno, razza di canestro ambulante! Non preoccupare, Chase! Tuo corpo avrà solo qualche piccolo livido! Grazie, Coda! Sono totalmente confusi! Eliminiamoli! Eccoli, sono qui! Ci siamo anche noi! Fate attenzione! Troppo tardi! Ci siamo scambiati corpi! Questo non è possibile! Credo che dovrai fartene una ragione! Ma adesso non è il momento di scoraggiarci! È l'ora dei Morpher! Caricatore Dino! Pronto! Sciavola Dino! Fendente Power! Sono curioso di provare questa mossa! Lama di Folline! Fortuna che entrambi sappiamo usare la spada! Ottimo lavoro! Siete stati fantastici! Non riusciamo a batterli nemmeno scambiando i loro corpi! Io suggerirei di andarcene da qui! La lezione è terminata! Dannazione! Sono fuggiti! Già! E io voglio tornare nel mio corpo! Stai scherzando? Hai costruito tu gli Zord? Non avevo scelta! Ero venuto sulla Terra a cercare Kieper! Ma ho trovato solo l'Energem Argento! Per proteggere le altre Energemme nascoste, ho costruito gli Zord! Sono programmati per risvegliarsi quando la loro Energemma si lega a qualcuno! Quando abbiamo scoperto il primo Zord, avevo il sospetto che fosse opera tua! Sono molto felice che tu sia qui! Purtroppo, non abbiamo tempo per i festeggiamenti! Devo recuperare l'Energem Argento! Aspetta! Cosa hai intenzione di fare? Mi preparo ad affrontare Doomwing! Veniamo con te! No! È una cosa che devo fare da solo! Mi sareste solo d'impiccio! Caspita! Ci reputa una palla al piede! Lo spirito di Xenowing è stato contaminato da Doomwing per secoli! Abbiate pazienza! Prima o poi si ricorderà del valore del lavoro di squadra! Ok, Kieper! Forza al lavoro! Se vogliamo essere pronti, dobbiamo allenarci! Giusto! Per favore, non mi elimini, Lord Arcanon! Le assicuro che posso ancora trasformarmi in un Ranger! Aspettate! Lasciatelo pure parlare! Anche se i Rangers mi hanno separato da Xenowing, conosco un modo sicuro per ricongiungermi a lui! Deve ridarmi l'Energem Argento! Lo prego! Ti concedo un'ultima chance! Non sottovalutare mai più il potere dei Rangers! Se non ti trasformi nel Silver Ranger, sparirai per sempre nell'opinione! Non sottovalutare mai più il potere dei Rangers! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo Dovrebbe essere qui Incredibile Incredibile Sì, è davvero impressionante Tendente prisma argento Ciao, Zellwing Un umano non può imparare quella mossa Non avete la più pallida idea di cosa è capace di fare Arkanon Allora diccelo tu Così lo sappiamo Lui è pura malvagità Arkanon ha cancellato un intero pianeta per impossessarsi dell'Energemma Oscura Quando distrusse Sentai 6 Esatto Dopo aver trovato l'Energemma Argento sono riuscito a rintracciare Arkanon Durante la battaglia l'Energemma Argento si levò a me Così sono diventato il Silver Ranger Ma non riuscì a sconfiggere Arkanon E lui mi face suo prigioniero Anche se sapeva benissimo che non gli avrei mai ubbidito Per questo, grazie al potere dell'Energemma Oscura Creò il mio alter ego malvagio Doomwing Si spiega anche il perché di Snide L'Energemma Oscura deve aver toccato Echol che si è diviso in due Questo suono è Doomwing Devo eliminarlo E riprendermi l'Energemma Seguiamolo Hai perso qualcosa, Zeno Wing? L'Energemma non si lega a chi è di animo malvagio Non riuscirai a trasformarti da solo Non sarò solo per molto Stato indietro, Rangers Doomwing è molto più potente di ognuno di voi Forse Ma non è più potente di tutti noi insieme, stanne certo È l'ora dei Morpher Caricatore Dino Pronto! Scatene il potere! Scatene il potere! Diamoci dentro! Questa è la mia battaglia Non puoi resistermi, io sono il tuo destino! E' niente dell'avventura! Attenzione! Grazie all'Energemma Oscura Saremo di nuovo uniti! Piegalo al tuo volere Molto volentieri! Nooo! No! Lasciaro stare ben nudo! Riley! Questa me la pari! No! 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 No!